Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video in cui tenterò di darvi tre semplici consigli per scrivere e parlare meglio in italiano. Prima di fare questo, però, devo fare anche una piccola premessa iniziale. Con questo video sto forse dicendo che si dovrebbe utilizzare un perfetto italiano in qualsiasi situazione, occasione, caso, circostanza? No. No, parafrasando piuttosto uno dei pensieri di Leopardi, e ricordassi anche quale, salvo meglio, nessun maggior segno di essere poco filosofo e poco savio che voler savia e filosofica tutta la vita, non esiste modo peggiore di parlare italiano che il voler parlare sempre un perfetto italiano, non solo perché apparireste pedanti e fuori luogo. chi sa chi? Chi sa chi? Non so perché faccio questo. Mettiamo ad esempio il caso in cui parliate con dei vostri amici o con dei vostri familiari, ma sarebbe un vero e proprio errore di strategia comunicativa. Esistono infatti numerosissime variabili che condizionano il nostro linguaggio, e che col tempo ci costringono a perfezionare una serie, chiamiamoli così, di registri adatti di volta in volta la situazione comunicativa in cui ci troviamo immersi, in un certo senso l'abito giusto per la situazione giusta. Senza entrare in tecnicismi troppo complessi che qui sarebbero anche fuori luogo, basta dire che in linguistica solitamente si utilizzano cinque variabili per analizzare il tipo di linguaggio che si sta utilizzando, variabili che comprendono le differenze sociali, culturali, di mezzo comunicativo, di situazione comunicativa e il periodo storico. A queste variabili poi va aggiunta anche l'area geografica del parlante, che è una caratteristica molto importante per l'italiano, perché sappiamo tutti l'importanza che hanno i dialetti nella nostra società. E anche se i parlanti esclusivamente dialettali in Italia ormai sono notevolmente diminuiti rispetto ad esempio agli anni 60-70, in cui rappresentavano ancora più del 20% della popolazione, è comunque vero che la cadenza ad esempio influenza notevolmente, come penso si senta dalla mia voce, il tipo di italiano che si parla e che contribuiscono a dare colore ed espressività anche all'italiano, per cui i consigli che vi darò, come potrete vedere anche dal grafico che penso metterò in fase di post produzione, riguardano una sezione molto ben delimitata dell'utilizzo della lingua italiana, ovvero quella sezione che viene solitamente definita italiano standard o italiano normativo, normalizzato, fondamentalmente quello della grammatica, che alla fine non è altro che una piccola parte delle infinite possibilità dell'uso della lingua. Sono quindi consigli da utilizzare in situazioni piuttosto formali che comunque richiedono un utilizzo proprio di un italiano standard, standardizzato, come possono essere ad esempio la scrittura di un saggio o di una tesina o ad esempio durante un colloquio di lavoro in cui è richiesto una certa padronanza del linguaggio. Chiarito il punto della situazione con questo prologo o preambolo chiamatelo come volete, procediamo subito con i tre consigli per parlare e scrivere meglio in italiano. Il primo consiglio, tentemi forte ragazzi, riguarda la terza persona maschile del pronome personale complemento nella sua forma atona per il complemento di termine, da ora in avanti abbreviato per comodità in gli. Partiamo dal presupposto che nella nostra bella lingua le forme atone possono essere utilizzate esclusivamente per il complemento oggetto e per il complemento di termine. Tanto per essere chiari mi, ti, gli, le, ci, vi, loro per il complemento di termine e mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le per il complemento oggetto. Per gli altri complementi indiretti invece si usano le forme cosiddette toniche precedute dalla preposizione che chiarisce immediatamente la loro funzione. In base a quanto detto quindi è facile capire che mi significa a me, ti, a te, eccetera eccetera per il complemento di termine. Tuttavia nell'italiano contemporaneo colloquiale e non si sta verificando una sorta di semplificazione del sistema. Sta prendendo piede cioè l'uso del pronome maschile gli al posto di quello femminile e ancor di più la sostituzione del plurale loro con gli. Ecco ragazzi per quanto la maggior parte delle grammatiche ormai contempli queste semplificazioni e che queste semplificazioni vadano benissimo in un contesto informale, io personalmente ritengo che rappresentino un errore da evitare quantomeno in contesti più controllati. È vero la forma di terza persona plurale loro pur essendo inserita tra i pronomi atoni può presentare alcune difficoltà di funzionamento. Somiglia più ai pronomi tonici e per lunghezza e per collocazione ma una volta capito come funziona non credo davvero che sia così difficile. Ci vuole solo un po' di allenamento. Il secondo consiglio riguarda l'utilizzo dei tempi verbali futuro e futuro anteriore dell'indicativo. Partiamo dicendo che nell'italiano comune il futuro sta cedendo il passo al presente. Questo pone il problema di segnalare in altro modo che l'evento trattato si svolge nel futuro per cui si vede sempre più spesso l'indicazione temporale affidata a un altro elemento listicale o al contesto. Facciamo un esempio. In domani vado a Milano è l'avverbio a dare l'idea di futuro. Tuttavia se da un lato questi due tempi perdono alcuni usi tradizionali dall'altro acquistano altre funzioni usatissime nell'italiano colloquiale ma sempre secondo me da evitarsi in situazioni più formali. Oggi si utilizza il futuro per esprimere comandi, obblighi, concessioni che nell'italiano standard vengono resi col presente o con l'imperativo. Si tratta del cosiddetto futuro deontico. Ad esempio farai come ti dico il candidato dovrà sostenere un esame per ottenere l'abilitazione o non so per la prossima interrogazione ti preparerai meglio. Un altro uso frequentissimo del futuro e del futuro anteriore lo troviamo nell'esprimere un dubbio o una congettura. Il cosiddetto futuro epistemico. Che è stato? Sarà stato un tuono? A che ora saremo usciti? Avrai avuto le tue ragioni? Ricorderete sicuramente quanto detto nella precedente lezione e così via. Si tratta di un uso modale del futuro per evitare costruzioni più complesse. Un terzo uso non troppo corretto ma molto frequente del futuro è il cosiddetto futuro concessivo. Cioè è utilizzato il futuro al posto di una proposizione concessiva per togliere importanza ad un argomento. Esempio. Sarà anche una bella ragazza ma mi sta antipatica. Sarà anche stata una bella partita ma a me non è piaciuta. Il terzo e ultimo consiglio per migliorare il proprio italiano riguarda un altro tempo verbale. l'imperfetto indicativo all'interno del periodo ipotetico. Ora anche questo è un uso abusatissimo nell'italiano informale ma questo secondo me è ancora un errore grave da qualsiasi punto lo si guardi. Senza star qui a fare la lezioncina di grammatica sui tipi di periodo ipotetico su che siano la protasi e l'apotosi eccetera eccetera diciamo che questo imperfetto ipotetico sostituisce sia il condizionale che il congiuntivo quando si vuole comunicare o una condizione irreale oppure una possibilità che avrebbe potuto verificarsi nel passato. Quando la norma richiede il congiuntivo dopo il se e il condizionale nella parte successiva da evitare sempre secondo me. Questi tre usi non standard ma assai diffusi dell'italiano insieme a molti altri che per brevità non ho citato in questo video evidenziano non solo un mutamento linguistico naturale se così vogliamo dire ma anche cognitivo. Il cambiamento nell'uso dei tempi verbali dall'indicazione dei rapporti temporali fra l'enunciazione e l'azione enunciata alla focalizzazione sulla modalità penso al futuro epistemico o deontico segnalano mutamenti più profondi nella lettura e nell'interpretazione della realtà. Mutamenti che caratterizzano la nostra civiltà e le nostre generazioni. Bene per questo video credo di aver detto più che a sufficienza. Mi piacerebbe infatti concludere citando una frase che era solito dirmi il mio professore di linguistica italiana ovvero che le regole si possono infrangere ma che per farlo prima bisogna conoscerle. A me invece non rimane altro che ringraziarvi per la visione e alla prossima! Um, is it because he's always correcting people's grammar? Whom? Whom? Sometimes it's who? Eh? Sometimes it's... All before... All before... ... All before... All before... ... Grazie a tutti.